dunque 3 a 1 3 a 1 3 a 1 allora direi che va bene no direi che va bene abbiamo fatto per la casa tre punti importanti visto che una settimana abbastanza importante in quanto mercoledì abbiamo una partita difficile a genova con la samp a differenza dell'inter noi non abbiamo avuto la fortuna di affrontare la samp di di francesco quindi una squadra nettamente affrontabile trova una squadra che con ranieri è molto più difficile da affrontare e sarà dura e sarà dura viene dal derby vinto quindi insomma sarà bella tosta però è questa partita qua insomma ci ha fatto ben sperare vero la verità che abbiamo giocato contro l'udinese quindi sicuramente diciamo un avversario non top però insomma credo che primo tempo non ci sia stata veramente partita abbiamo fatto una primo tempo enorme cioè 3 a 0 potrà finire 4 a 0 5 a 0 6 a 0 proprio stra dominato nel secondo tempo chiaramente abbiamo un po calato abbiamo siamo un po calati ma un po di intensità ma è normale se sul 3 a 0 è sbagliato ma è normale è normale e quindi ci stava insomma e ronaldo mostruoso ha fatto il primo gol che è una cosa fuori da ogni logica il secondo molto bello bellissimo anche quello di di bala che è stato annullato insomma che dire ragazzi abbiamo fatto veramente ripeto abbiamo fatto veramente una gran partita poi ha chiuso tutto bonucci con questa palla che è entrata gol assegnato grazie al gol line ma primo tempo ripeto finito 3 a 0 non poteva finire nettamente di più nel secondo calando l'udinese è venuta un po fuori e anche grazie a gigi buffo non abbiamo preso col primo questo c'è da dire gigi ha fatto ha fatto una parata su lasagna enorme quindi chi lo prende in giro giustamente anche oggi dovrebbe veramente farsi un esame di coscienza oggi veramente bene tutti io non lo so oggi come si possa anche solo bocciare qualcuno della juve perché abbiamo preso un gol al novantesimo quando ormai risultato era già acquisito tra l'altro un gol sul rimpallo quindi oggettivamente non lo so non lo so non lo so ragazzi io non so sento qualcuno che boccia e oggi sinceramente la juve la promuove tutta in blocco è uomo partita ronaldo perché ha giocato bene ha segnato è andato vicinissimo a fare anche altri gol quindi sicuramente nettamente il migliore però ragazzi oggi veramente non c'è un giocatore della juve sotto 6 cioè sotto 7 sotto 7 per pure rabbio matuidi bentoncù bentoncuro anche oggi bene anche se ha fatto l'errore sul gol loro ma ci sono veramente stato un rimpallo non mi puoi neanche dire un errore è un rimpallo che nasce c'è un gol che nasce da un solo rimpallo quindi no veramente oggi oggi veramente bene tutti da nilo e descilio hanno fatto una parte descilio poi pazzesca sta facendo le partite incredibili quindi oggettivamente non ho non ho un giocatore della juve oggi da dare sotto 7 cioè è strano è strano però tutti bene ragazzi tutti bene il tridente sembra funzionare chiaramente aspettiamo qualche impegno un pochino più probante perché funziona sì però voglio vorrò vedere insomma una squadra un pochino più difficile affrontando una squadra più difficile e dunque juve batte udinese 3 a 1 grazie alla rete di ronaldo meravigliosa di controbalzo di prima è un gol fantastico al secondo gol di ronaldo dovuto a una magia di guain che gli serve un pallone eccezionale e il terzo gol di bonucci su calcio d'angolo su assist di demiral quindi insomma direi che demiral funziona a meraviglia e come ho detto prima ho dovuto solamente dare il migliore oggi perché è francamente difficile trovare un peggiore e il migliore l'ho dato a cristiano ronaldo per il gol ma anche un po per tutta la partita ma ripeto tutta la squadra oggi sopra il 7 ciao ragazzi al prossimo video